E ciao ragazzi, io sono Diego Bentornati in questo nuovo video Questo oggi è il secondo spacchettamento delle figure di Lion Ma oggi non apriremo solo le figurine Apriremo Due pacchetti con dentro Due pacchetti Delle action figure di Lion Cinque pacchetti Che sono qua Questi E Il giga poster Che è questo Dopo vi farò vedere meglio Perfetto Andiamo a spacchettare La prima botina delle action figure Uh, chi è? Il cane, il dog Perfetto Dai, lo metto in uno dei vigenti Non deve uscire Vediamo com'è Ve lo faccio vedere Molto bello Ok La seconda action figure La apriremo dopo Non è successo niente Tranquilli Primo pacchetto di figurine Poi faremo anche il video in cui le attaccheremo le figurine Che in quel caso intervini Vabbè Apriamo Chi c'è abbiamo in questo pacchetto? C'è abbiamo Lion Strecatto Stefano e Dan In barca Guardate Com'è fatta Poi Alex E l'anziano L'SGP Ve lo dovreste ricordare Se avete seguito la serie SCP di Lion Perché ora ormai non la fa più Allora io In questo canale porterò Non solo spacchettamenti di figurine Ma Qua Porterò anche dei vlog normali Con anche Altre cose Non solo figurine Spacchettamenti Allora ci sarà Il killer Qua Ok Poi la La Sigaretta Che già ce l'avevo Se non mi sbaglio Già l'ho trovata Nello scorso video Poi qua La La Foto Del 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 canale di Lion Qua c'è Lion e Anne Con Vabbè Questo E Stefano Che sarà L'impostatore Poi ora Spacchettare il terzo Pacchetto di figurine Perfetto Ci abbiamo Il Come che si chiamava Non mi ricordo È un po' che non guardo Il Banane Poi il Ladro Anna Con dietro Cigo Che sicuramente si è E il mostro del solletico Scrivete nei commenti se Ve lo ricordate o no Ora andrò ad aprire L'altro pacchetto Delle Le action Figurine Aia Questo è più duro Sembra A me che è più duro Ti prego Fai qualcuno Di buono No Buonino Buonino Feri Massi Buonino Perché in teoria Comunque sono figli In teoria È buono E qua dovrebbe essere ancora sulla crociera Perché c'è la valigia Ve lo faccio vedere Ok E sono finite le action figure Ci abbiamo ancora Quanti pacchetti Uno Due Ok Vabbè Comunque c'è questo Questo librino Delle action figure Vabbè Poi tutte le cose Ok Poi ci abbiamo Quanti pacchetti Due Rimasti E poi andremo All'apertura Del gigaposter Aio Aspetta Mamma mia Dai Porca miseria Porca miseria Dai Perché non riesco a prenderli Allora Ci abbiamo L'SCP 173 Ok Poi ci abbiamo Qua Che non mi ricordo C'è qui Alex Poi ci abbiamo Lion Contro la Supercafe E Scrivete nei commenti Giorgio ritorna Giorgio ritorna Giorgio ritorna Putto buono Giorgio Il nostro Giorgino Ti prego Ritorna Guarda sto video Ritorna Ti prego Ok Ultimo pacchetto Perfetto Ultimo pacchetto E andremo All'ultimo Spacchettamento Che sarà Il gigaposter Oh mamma Ma perché Uffa Ok Ci abbiamo Il cannibale Della serie Minecraft epidemia Che tornerà Alla seconda serie La sciarpa La sciarpa Chico che beve Lion Che questo Si collegherà Perché vedete Che qua C'ha Non c'ha Il contorno azzurro Quindi si collega E qua c'è Chico con la spada Di diamante Ok ragazzi Ora passiamo All'apertura Del poster Ok ragazzi Ora andiamo All'apertura Del poster Come vedete Mi sono Sono Togliati i capelli Anche se Non mi avete visto Con i capelli di prima Perché ho detto Poi come mi vedete Perché non mi avete mai visto Mamma mia Allora È grosso Bello e grosso Aspettate che Oh mamma Allora E va bene Qua ce la dovreste Fare a vedere Qua c'è Lion E E E E qua Ci sono tutti Stregatto Alex Chico Chiazina E Lion Ora Veneto apposta Oh mamma Perfetto ragazzi Questo Di oggi Era Lo spatecamento E Ci possiamo Salutare E Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata Buona giornata